L'Italia più o meno si trova nella situazione di paesi vicini come la Francia, come la Germania che non è proprio confinante con noi, ma è un paese vicino al centro Europa, mentre la Spagna ha un'incidenza in alcune aree molto più elevate. Manca purtroppo il Regno Unito che non fa più parte dell'Unione Europea. Però vedete qua l'impennata di casi proprio nel Regno Unito, soprattutto sapete che laddove è colpito in maniera particolarmente rilevante, cioè nel sud-est, sud-est dopo il Regno Unito vuol dire anche la zona di Londra, a Londra vivono 500 mila italiani, insomma più o meno, per cui sicuramente è un'area di aeroportità molto vasta, molto ampia in cui è diffusa questa variante UK, a cui si attribuisce un aumento della trasmissibilità. Ieri dopo Boris Johnson ha parlato anche di un aumento del 30% della letalità, però davvero questo è un dato assolutamente da confermare, quello che sembra confermato è un aumento della trasmissibilità e purtroppo ceppi di questa variante si trovano, si sono ormai rilevati, sono stati rilevati in diversi paesi, in diversi paesi europei e certamente anche in Italia.